stavamo uscendo dal manicomio quando in un angolo del cortile vedi un uomo alto magro il quale faceva continuamente il segno di chiamare un cane immaginario con voce dolce tenera gridava cocotte piccola cocotte vieni qui cocotte vieni qui bella battendosi sulla coscia come si fa per attirare le bestie chiesi al medico quello chi è? mi rispose ah nulla di interessante è un cocchiere di nome françois diventato pazzo dopo aver annegato il suo cane insistetti raccontatemi la sua storia le cose più semplici più umili sono quelle che a volte ci commuovono di più ed ecco la storia di quell'uomo riferita per intero da un palafreniere suo amico nei sobborghi di parigi viveva una famiglia di ricchi borghesi abitavano in una villa in mezzo a un parco sulle rive della senna il cocchiere era questo françois un ragazzone di campagna un po tardo di mente ma di buon cuore ingenuo credulone una sera mentre rientrava nella villa un cane cominciò a seguirlo da prima non vi badò ma presto l'ostinazione della bestia che gli si era attaccata ai talloni lo costrinse a voltarsi la osservò per vedere se la conoscesse no non l'aveva mai vista era una cagna ad una magrezza spaventosa con grandi mammelle cadenti gli trotterellava dietro con un'aria lamentosa e affamata con la coda fra le zampe le orecchie appiccicate alla testa fermandosi quando lui si fermava ripartendo quando lui ripartiva l'uomo provò a scacciare quell'animale e gridò fattene via essa si allontanò di qualche passo e si accucciò sulle zampe posteriori in attesa poi non appena il cocchiere si rimise in cammino gli fu subito appresso finse di raccattare un sasso la bestia fuggì un po' più lontano sbattendo le mammelle flaccide ma come l'uomo ebbe voltato le spalle tornò a seguirlo allora il cocchiere mosso da pietà la chiamò la cagna si avvicinò timidamente con la schiena curva come un arco e la pelle tesa sopra le costole l'uomo carezzò le ossa sporgenti e commosso da quella carcassa d'animale disse andiamo vieni subito sentendosi accolta adottata essa dimenò la coda e anziché camminare alle calcagna del nuovo padrone cominciò a correre davanti françoise la fece accucciare sulla paglia della stalla poi corse in cucina a cercare un po' di pane quando ebbe mangiato a sazietà la cagna si addormentò a zambellata il giorno seguente i padroni avvertiti dal cocchiere gli diedero il permesso di tenersi l'animale era una buona bestia affettuosa e fedele intelligente e dolce ben presto però venne fuori un suo tremendo difetto era in calore dal principio alla fine dell'anno in poco tempo fece la conoscenza di tutti i cani dei dintorni che si diedero a ranzarle attorno giorno e notte distribuiva tra loro i suoi favori con l'indifferenza di una prostituta andava d'accordo con tutti e si tirava presso una vera muta composta dai più svariati esemplari della razza canina gli uni grossi come un pugno gli altri grandi come asini se li trascinava dietro per le scale in corse interminabili e quando si fermava per riposarsi sull'erba quelli le facevano cerchio e la contemplavano con la lingua penzoloni la gente del paese la considerava un fenomeno non si era mai vista una cosa simile il veterinario non ci capiva nulla la sera quando rientrava nella stalla il branco dei cani assediava la proprietà si intrufolavano attraverso tutte le fessure delle siepe che cingeva il parco devastavano le aiole strappavano i fiori scavavano delle buche nel terreno esasperando il giardiniere ululavano per notte intere intorno all'edificio dove alloggiava la loro amica non c'era verso di allontanarli di giorno penetravano perfino in casa era un'invasione, una piaga un disastro i padroni incontravano continuamente sulle scale e perfino nelle camere botoli gialli dalla coda pennacchio cani da caccia, bulldog cani luporandagi dal pelo sporco e senza fissa dimora enormi terranova che facevano scappare i bambini si cominciarono a vedere in paese cani sconosciuti entro un raggio di 50 chilometri venuti chissà da dove che vivevano chissà come e subito sparivano tuttavia François adorava Cocotte l'aveva chiamata Cocotte senza malizia per quanto essa meritasse quel nome e spesso ripeteva questa bestia pare proprio una persona le manca solo la parola le aveva fatto fare uno splendido collare di cuoio rosso con una piastra di rame su cui erano incise queste parole signorina Cocotte di proprietà del cocchiere François era diventata enorme quanto era stata magra prima tanto ora se l'ha fatta obesa con un ventre gonfio sotto cui pendevano sempre le lunghe mammelle ciondolanti era ingrassata di colpo e ora camminava a fatica con le zampe divaricate come fa la gente troppo grassa la bocca sempre aperta per prendere fiato sfinita non appena tentava di correre inoltre si dimostrava di una fecondità fenomenale era quasi sempre incinta e dopo ogni parto dava alla luce quattro volte all'anno una serie di cuccioli delle più svariate razze canine François dopo aver scelto uno che le tirasse il latte ammucchiava gli altri nel suo grembiule e andava senza pietà a gettarli nel fiume ma ben presto la cuoca aggiunse le sue lamentele a quelle del giardiniere trovava cani perfino nel forno nella credenza nel soppalco del carbone intenti a rubare tutto quel che trovavano il padrone spezientito ordinò a François di sbarazzarsi di Cocotte l'uomo desolato cercò qualcuno che la prendesse nessuno volle saperne allora si decise ad allontanarla e le affidò un vetturino perché l'abbandonasse in campagna dall'altra parte di Parigi presso Joinville-le-Pont la stessa sera Cocotte era di ritorno bisognava prendere una decisione seria per un compenso di 5 franchi la consegnarono a un capotreno in partenza per le Havre con l'incarico di abbandonarla là appena arrivato di lì a tre giorni rientrò nella stalla sfinita, sfiancata, scorticata all'estremo delle forze il padrone impietosito non insistette più ma di lì a poco i cani ritornarono più numerosi e tenaci che mai e una sera in cui si dava un gran pranzo la pollastra tartufata fu portata via da un mastino sotto il naso della cuoca che non osò contendergliela il padrone questa volta si arrabbiò sul serio e chiamato François gli gridò inviperito se non scaraventate in acqua quella bestia prima di domattina vi sbatto fuori avete capito? sconvolto l'uomo risalì in camera sua per far la valigia preferendo abbandonare il posto poi riflettè che non avrebbe più potuto trovare lavoro da nessun'altra parte finché si fosse trascinato dietro quella scomoda bestia pensò che si trovava in una buona casa ben pagato, ben nutrito si disse che un cane dopo tutto non valeva tanto si esaltò al pensiero del proprio interesse e finì per prendere risolutamente la decisione di sbarazzarsi di cocotta allo spuntar del giorno dormì male all'albero già in piedi e con una grossa corda in mano andò in cerca della cagna questa salzò lentamente si scrollò si stirò le membra e si avvicinò ad annusare il padrone allora il coraggio gli mancò e cominciò ad abbrazzarla con tenerezza carezzandole le lunghe orecchie baciandola sul muso chiamandola con i più teneri nomi che conosceva ma un orologio vicino suonò le sei non poteva più esitare aprì la porta andiamo le disse la cagna agitò la coda comprendendo che stavano per uscire raggiunsero la sponda del fiume ed egli scelse un punto in cui l'acqua pareva profonda quindi annodò un capo della corda a un bel collare di cuoio raccolse una grossa pietra e la legò all'altro capo poi prese cocotta in braccio e la baciò furiosamente come una persona che si è sul punto di abbandonare e la stringeva al petto la cullava la chiamava bella cocotta piccola cocotta e lei lo lasciava fare mugolando di piacere dieci volte fu sul punto di buttarla e sempre gliene mancò il coraggio poi d'improvviso si decise e la gettò con tutte le sue forze il più lontano possibile da prima lei tentò di nuotare come usava quando le facevano fare il bagno ma la testa trascinata dalla pietra si immergeva ad agio ad agio e lanciava al padrone sguardi smarriti sguardi umani mentre si dibatteva come una persona sul punto di annegare poi tutta la parte anteriore del corpo sparì mentre le zampe posteriori si agitavano pazzamente fuori dall'acqua finché anch'esse scomparvero allora per cinque minuti delle bolle d'acqua scoppiarono alla superficie come se il fiume si fosse messo a bollire e François sconvolto sbarrito col cuore in tumulto credeva di vedere cocotte torcersi nella melma e nella sua semplicità di contadino si diceva che cosa penserà di me a quest'ora quella bestia fu sul punto di perdere la ragione fu malato per un mese e ogni notte sognava la cagna la sentiva leccargli le mani l'udiva abbaiare dovettero chiamare un medico alla fine migliorò e i padroni verso la fine di giugno lo condussero nella loro proprietà di Bessar presso Rouen anche là era sulle rive della Senna cominciò a fare i bagni ogni mattina scendeva col palafreniere e insieme attraversavano il fiume a nuoto un giorno mentre si divertivano scherzando nell'acqua François a un tratto gridò al compagno guarda quella che arriva te ne farò assaggiare una cotoletta era una carogna enorme gonfia spellata che si avvicinava con le zampe all'aria sospinta dalla corrente con qualche bracciata François si accostò e continuando a scherzare perbacco disse non è fresca davvero e nemmeno magra che preda vecchio mio e le girava attorno mantenendoci a distanza dall'enorme bestia in putrefazione poi all'improvviso tacque e l'osservò con un'attenzione singolare si avvicinò di più come se volesse toccarla esaminava fissamente il collare poi tese il braccio afferrò la carogna per il collo la capovolse la tirò a sé e sul rame verdastro rimasto aderente al cuoio scolorito l'esse signorina Cocotte di proprietà del cocchiere François la cagna morta aveva ritrovato il suo padrone a duecentoquaranta chilometri da casa l'uomo gettò un grido spaventoso e cominciò a nuotare a tutta forza verso la riva urlando sempre e appena toccato terra fuggì smarrito completamente nudo per la campagna era impazzito grazie a tutti grazie a tutti